Domenica scorsa a Ragusa si è tenuta la cerimonia conclusiva del premio Nicolas Green, il bambino americano ucciso nel 94 sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Per l'anno scolastico 2020-2021 il tema del concorso, finanziato dall'assessorato regionale dell'istruzione della formazione professionale e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, è stato la solidarietà umana ed in particolare la donazione di organi per fini di trapianto. A vincere il premio quest'anno è stato il giovane ispicese Francesco Bruno, frequentante l'istituto superiore curcio di Ispica. Francesco è venuto a trovarci negli studi della nostra radio, Piero Giunta lo ha intervistato. Allora Francesco, intanto complimenti per aver vinto il premio Nicolas Green edizione 2020-2021. Tu hai presentato un elaborato con te menti due interviste. Cosa hai chiesto agli intervistati? Ho intervistato due persone, ho fatto un'intervista a ciascuno. Queste due persone avevano a che fare con la donazione organi, infatti una persona, il marito ha donato gli organi alla sua morte e invece l'altra persona ha ricevuto invece un rene. Allora la prima persona che ho intervistato si chiama Rossella ed è la fondatrice dell'associazione Il dono di Francesco, attiva qui a Ispica, alla quale ho chiesto come avviene, qual è il processo per donare gli organi alla morte di una persona. Mi ha spiegato quanto in realtà fosse difficile, non è una decisione da prendere così sul colpo, non è una decisione facile da prendere ma poi anche c'è un lungo processo per far sì che questi organi poi verranno, vengano esportati e poi donati alle altre persone. Poi invece ho chiesto a questa persona, si chiama Giuseppina, vive a Modica, che ha ricevuto un rene, com'è vivere prima di ricevere un organo vitale e poi com'è avvenuta, com'è come è stato, quando hai ricevuto questo rene, che cosa è successo, tutto il travaglio dietro. Domenica hai ascoltato la conferenza che si è tenuta in concomitanza della premiazione, ecco quanto è importante donare gli organi e cosa ti ha lasciato questa esperienza. Allora come dicevi prima c'è stata una conferenza, sembra a che fare sulla donazione degli organi, alla cura hanno partecipato diverse persone che hanno avuto a che fare, molte di queste persone erano genitori di ragazzi che purtroppo hanno perso la vita ma alla loro morte i loro organi sono stati donati e dopo questa conferenza diciamo che mi ha lasciato un pochettino l'immagine di questi genitori che parlavano di questa morte dei loro figli che l'hanno superata e che comunque alla loro morte altre persone hanno potuto continuare a vivere. Difatti anche una delle persone intervistate l'avevo già conosciuta tempo prima che è un ex direttore scolastico il quale alla morte del figlio gli organi sono stati donati e sette persone sono state salvate, cioè sono tuttori in vita e quindi questo mi ha fatto pensare che effettivamente con la donazione degli organi possiamo fare come un vero e proprio miracolo, come non dico una resurrezione ma salvare dalla morte una persona è certamente qualcosa di meraviglioso. L'ultima domanda Francesco, tu sei un giovane cosa divesti ai tuoi coetanei sulla donazione degli organi? Io invito a riflettere non solo ai miei coetanei e comunque ai giovani in generale ma anche magari a delle persone più anziane, comunque più avanti nella vita, più mature e a riflettere a quanto può essere grande questo dono della vita. intanto parlando ai giovani e ai coetanei come me dico pensate se magari ci foste voi a dover aspettare un organo o voi o un vostro parente o un vostro amico, cioè chiaramente fareste di tutto pur di mandare in vita questa persona e poi parlando invece alle persone più in generale dico sempre la stessa cosa, magari pensate se ci foste voi comunque sul letto di morte comunque ad aspettare questo organo, ma comunque se voi poteste salvare delle vite umane, cioè si possono salvare fino a sette vite semplicemente donando gli organi di una persona deceduta, se c'è l'occasione mi chiedo perché non farlo, anche perché alla premiazione del concorso hanno parlato che l'Italia comunque è uno dei paesi al mondo dove avvengono meno donazioni per abitanti. Ringrazio Francesco Bruno, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.